Il Brasile rende omaggio ad Ayrton Senna con tre giorni di lutto nazionale. Quello che vedete è il monumento in bronzo realizzato proprio di fronte al luogo dell'incidente. Oggi Ayrton Senna riposa per sempre a San Paolo nel cimitero Moroni. Sulla lapide si legge, niente può allontanarmi dall'amore di Dio. Ayrton Senna continua a vivere nel cuore e nei pensieri dei suoi fan e di tutti coloro che non smettono di sognare, di veder sfrecciare un casco verde oro. Perché, come lui stesso amava ripetere, se una persona non ha più sogni, non ha più alcuna ragione di vivere. Sognare è necessario, anche se nel sogno va intravvista la realtà. Per me è uno dei principi della vita. Grazie, Ayrton. È arrivato il momento...